buonasera in questo appuntamento con il veterinario parliamo di cavalli è un periodo in cui questi animali spesso sono tenuti all'interno delle scuderie proprio per il clima rigido e quindi vengono alimentati con il fieno il fieno deve essere di ottima qualità altrimenti va a procurare disturbi respiratori al cavallo che possono causare delle allergie e quindi la tosse quindi proprietari di cavalli la prima cosa che devono fare attenzione quando vanno a visitare il loro animale è proprio come l'animale respira se ha sintomi di tosse o se ha anche del muco al naso questo è molto importante perché se il fieno è di ottima qualità potrebbero esserci sotto altre patologie respiratorie come bronchiti o addirittura polmoniti il periodo è proprio quello delle correnti d'aria per cui è importante che l'animale o stia anche fuori senza correnti d'aria oppure ben chiuso in una stalla l'importante che non ci siano eccessivi spifferi che possano causare proprio polmoniti o bronchiti le prime cose importanti la prima cosa da fare che il veterinario farà o che anche un buon proprietario deve essere in grado di fare è misurare la temperatura quindi se il cavallo ha più di 38 39 di temperatura è importante avvisare subito un veterinario che intervenga con una terapia antibiotica tutto questo per evitare che il cavallo arrivi a avere delle patologie croniche che poi non sono più curabili quindi vi ricordo un intervento precoce vi assicura la longevità del vostro cavallo evitando spiacevoli conseguenze poco curabili in futuro bene per questa sera è tutto vi do appuntamento la settimana prossima arrivederci